I candidati alla successione di Paola Enverardi alla guila dell'Università dell'Aquila sono Edoardo Alesse e Carlo Masciocchi. La conferma dopo l'Assemblea di Ateneo, convocata dal decano Pier Ugo Foscolo. La prima votazione è fissata ora per il 13 giugno. Se non si dovesse arrivare all'elezione di uno dei due candidati, si andrà in seconda votazione il 18 giugno, eventualmente in terza il 25 e se necessario al definitivo ballottaggio che si farebbe il 28 giugno. Alesse, originario di Rieti, 61 anni, è docente del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, di cui è stato direttore fino a qualche mese fa. Masciocchi invece, docente dello stesso dipartimento, è nato all'Aquila nel 1956 ed è già direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia dell'Ospedale San Salvatore. È prorettore vicario dell'Ateneo dall'ottobre del 2013. Il clima non è lo stesso di sei anni fa, infuocato all'epoca delle elezioni di Paola Enverardi, la cui vittoria segna un momento di forza e rottura col passato, dopo la candidatura di Maria Grazia Cifone in continuità con il rettore uscente Ferdinando Di Orio. I due candidati, nel corso dell'Assemblea, hanno presentato i loro programmi. Le mie idee progettuali, ha detto Alesse, staranno dentro il limite definito dai valori istituzionali dell'Ateneo. Didattica, che significa crescita di studenti che diventeranno operatori della società. Ricerca, che dovrà offrire gli strumenti tecnici a quegli operatori. Valorizzazione dei risultati della ricerca, anche con finalità di profitto per l'Ateneo. E la quarta missione, la più nobile, alimentare la coscienza critica della società, con l'impegno a generare attività, atteggiamenti, saperi che creino giustizia e sostenibilità. Alessi ha pure sottolineato di voler migliorare le funzioni e la riconoscibilità tra gli organi di governo, quelli di controllo e garanzia di gestione amministrativa, consultive e di proposta. Se sarà eletto rettore, sarà innanzitutto, ha detto, il garante della legge, dello statuto e dei regolamenti. Masciocchi ha ribadito che la città dell'Aquila si fonda sull'università. Dovremmo ribadirlo con forza. Il prorettore ha rivendicato anche i risultati ottenuti dall'Ateneo con l'attuale governance. Dovesse essere eletto a capo della Commissione Ricerca, Masciocchi vorrebbe un delegato, capace di coordinare i processi e interfacciarsi con i dipartimenti. Ha anche detto che si dovrà fare in modo che la ricerca applicata, quella di base e quella culturale, procedano di pari passo. Masciocchi ha accennato anche all'attività sanitaria che ha eseguito in questi anni. Ogni giorno tanti colleghi svolgono la loro attività assistenziale con risultati egregi, rendendo chiaro a tutti, agli enti locali e regionali, che l'università è importantissima per la città. Purtroppo però, ha detto, a volte l'ambiente locale pare disattento. Da Aquilano però vi assicuro che l'Ateneo è nel DNA di questa città. Ecco perché quando abbiamo chiesto con forza una commissione paritetica per redigere finalmente un nuovo protocollo con la Regione, mancava da 21 anni. Così da inserire i medici in ambito sanitario l'abbiamo ottenuto. Grazie. 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 Grazie.